ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video bene in questo video andremo a recensire questo oscilloscopio che mi ha mandato banggood sullo scatolo sono riportati alcune indicazioni di cui la frequenza di campionamento corrisponde a 8,33 millisecondi una lunghezza banda da un megahertz una batteria a litio ricaricabile da 1200 milliampere display da 2,8 pollice indicatore della batteria e tasto di accensione qui ci sono altri parametri abbiamo un intervallo di base tempo da 3 microsecondi a 10 secondi voltaggio massimo che supporta uno per 40 volt picco picco 80 volt a 10 per 400 volt picco picco 800 volt a un trigger automatico a cdc si può ricaricare da un caricabatteria 5 volt bene ok andiamolo a vedere libricino di istruzione in cinese parte retro in inglese abbiamo una sonda in cui possiamo regolarla da 1 per a 10 per tramite questo tasto si toglie il cappuccio per poter fare delle misurazioni sia a gancio che a puntale abbiamo anche un attacco con due coccodrilli per fare sempre misurazioni nella confezione sono presenti anche questi accessori che pratica serve per identificare la sonda questo va messo qui se avete più sonde potete identificarle e questo va messo qui un accessore in più per fare delle misurazioni per collegare la sondina abbastanza facile andiamo ad accendere da questo tasto run allora sotto la luce non si vede tanto quindi vado a spegnere la luce ok adesso già si vede meglio e andiamo a fare delle misurazioni bene ragazzi ho preso lo scopio della finirsi gli ho collegato alla sonda un generatore di frequenza in onda quadra dal tasto automatico possiamo andare automaticamente a generare l'onda quadra in automatico lui si adatterà e possiamo vedere che gli sto generando 100 hertz proviamo a collegare la sonda dell'oscilloscopio così vediamo la differenza possiamo vedere che qui abbiamo 100 hertz anche la frequenza è impostata a 100 hertz qui abbiamo una base tempi di 10 millisecondi 5 millisecondi vediamo se riesco a mettere anche 10 qui ok adesso qui ho messo 10 millisecondi andiamo aumentare gli hertz vediamo un po allora siamo a miller se che è perfetta anche qui perché avevo la sonda 10 per mentre ho riportato la sonda a 1 per vediamo come sta a soffrirsi allora possiamo dire siamo a 1000 hertz e onda quadra qui ci abbiamo 200 microsecondi 500 millivolt per divisione e l'onda quadra è perfetta faccio vedere perché anche perché poi deve mettere a fuoco anche se danno un po fastidio i riflessi però l'onda quadra è perfetta anche qui andiamo a mettere qualcosa di più alto come frequenza allora siamo a 20.000 hertz allora siamo a 20.000 hertz guardate ancora l'onda quadra è abbastanza perfetta tra l'altro lui si autocalibra e guardate un po ovviamente non è professionale dalla sonda non si può regolare la calibrazione però siamo a 20.000 hertz e l'onda quadra è abbastanza buona portiamolo a 50.000 hertz ok siamo a 50 kilo hertz e possiamo vedere che qui ci indica la frequenza il judy cycle 50 per cento la vpp cioè picco picco massimo è di 2,4 volt mentre alla fine ci dà il tempo di campionamento sopra abbiamo la suddivisione in 500 millivolt 1 per e 10 microsecondi la base tempi e sta ovviamente in dc possiamo anche cambiare in ac quindi siamo in onda quadra va bene sia uno che l'altro indicazione della batteria adesso sta a un volt per divisione 2 volt per divisione 5 volt per divisione 10 volt per divisione è il massimo poi bisogna andare sul 10 per per portarlo a una suddivisione con un voltaggio maggiore riportiamo la 500 millivolt schiacciando possiamo campionare solo un singolo lato normale e automatico possiamo anche bloccare da questo tasto run schiacciando possiamo fare il blocco del campionamento qui ci indica la v max e la v minima ok portiamolo un po più alto come frequenza 150 kilohertz portiamolo a 500 kilohertz ok siamo a 500 kilohertz e guardate un po il frirsi incomincia a distorcere un po vediamo lui cosa fa beh lui l'onda quadra non si vede più ok quindi siamo alla metà di quello che dichiarano 500 kilohertz e infrirsi riesce a mantenere un po l'onda quadra ma lui incomincia a non mantenere più l'onda quadra come potete vedere questa non è più un'onda quadra sembra quasi una sinusoide proviamo a rifare l'automatico niente 500 kilohertz scendiamo un po allora siamo a 100 kilohertz vediamo che comunque l'onda quadra la mantiene ovviamente più saliamo di frequenza meno si vede l'onda quadra meno riesce a generare l'onda quadra possiamo regolare la base tempi scendendo a 3 microsecondi il minimo 3 microsecondi guardate un po la riesce comunque a mantenere vediamo un po suddivisione un volt va bene 500 mili volt saliamo un po con i microsecondi ok va bene 5 microsecondi diciamo che fino a 100 kilohertz va bene proviamo a dare 200 kilohertz auto e vediamo che a 200 kilohertz l'onda quadra incomincia a stondarsi quindi quasi una sinusoide ma comunque riesce un po a mantenere mentre invece con il frirsi non ha problemi detto questo ragazzi togliamo il frirsi concentriamoci su altre regolazioni con questo oscilloscopio portatile che da una parte potrebbe servire per qualche misurazione sul posto cioè se dobbiamo fare una misurazione in opera ok adesso proviamo a campionare l'alimentazione residenziale che 230 volt 50 hertz diamo alimentazione ok siamo in ac schiacciamo auto dovremmo vedere la sinusoide la sonda la mettiamo a 10 per ok ci siamo è allora la sonda va messo a 10 per l'impostazione anche sullo oscilloscopio va messo 10 per e anche l'impostazione bisogna passare da dc in ac questa è la sinusoide che vediamo qui possiamo vedere i 50 hertz la frequenza il duty cycle a 50 per cento circa 45 mi sta dando in realtà abbiamo un picco picco di 625 volt ovviamente v max intende il picco massimo di 312 volt circa lo stesso per la vo minima la v ag e di 200 mili volt per quanto riguarda la base tempi abbiamo 5 mili secondi possiamo andarlo a vedere da qua se vado a possiamo aumentare la base tempi o diminuirla 10 mili secondi 20 mili secondi 50 mili secondi 100 mili secondi riesce comunque a mantenerla bene poi andando su questo segnale che sta qui in fondo non so se si riesce a vedere possiamo cambiare il verso da sopra a sotto in pratica possiamo decidere il verso della sinusoide scendiamo con la base tempi 5 mili secondi la sinusoide perfetta come dicevo a una batteria a litio da 1200 mili ampere ricaricabile da questo connettore usb c quindi non bisogna mettere le batterie all'interno allora ragazzi abbastanza semplice come oscilloscopio è più un giocattolino ma per riparazione piccole riparazioni va benissimo per incominciare va benissimo anche perché è molto intuitivo e semplicissimo quanto costa da bangood vi lascio il link sotto in descrizione costa pochissimo oscilla dai 27 ai 30 32 euro massimo quindi state attenti quando magari scende un po lo potete acquistare con un prezzo veramente fantastico perché per un oscilloscopio che costa dai 27 ai 32 euro per iniziare è fantastico ed è anche un'ottima soluzione per approcciarsi sull'oscilloscopio tra l'altro lui ha anche un'impostazione di autospegnimento ma a cosa può servire uno oscilloscopio portatile per le riparazioni una delle tanti possiamo andare a vedere lo switching del trasformatore prendiamo il puntale negativo lo mettiamo sul gnd della scheda con l'altro puntale andiamo sul trasformatore sgrattando un po' sgrattando un po' il nastro che sta sopra diamo alimentazione alla scheda andiamo a schiacciare in auto qui e possiamo vedere lo switching del trasformatore guardare un po' in questo modo possiamo vedere che il trasformatore sta switchando possiamo anche andare a regolare la base tempi così siamo al minimo a 3 microsecondi il trasformatore sta switchando ad una frequenza di circa 40 kHz poi ovviamente varia però possiamo vedere che effettivamente il trasformatore funziona quindi sta switchando e se prendiamo il multimetro effettivamente abbiamo un voltaggio sul secondario quindi significa che il trasformatore è funzionante questo è uno dei tanti test che possiamo fare con l'oscilloscopio tra l'altro è uno oscilloscopio portatile piccolo non è ingombrante lo possiamo mettere ovunque e devo dire che a questo prezzo ragazzi per incominciare non è male bene ragazzi vi ricordo che vi lascio il link sotto in descrizione per chi lo volesse acquistare e da memory freezer questo è tutto un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video